Ciao a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo video di Company Virus, finalmente abbiamo chiuso il contest, andiamo a scoprire chi saranno i 3 fortunati vincitori del contest di Company Virus. 35 commenti, anzi 34 per essere precisi perché il mio non conta, partiremo dal primo di Siler92 e l'ultimo è quello di Stoken, quindi sono 34. Andiamo subito a scoprire il primo vincitore, 1.34, tra pochissimo vi parlerò anche di alcune novità velocissime di Co2.org e di Company Virus 2. E volevo fare poi un annuncio subito dopo, quindi se voi che avete partecipato al contest siete interessati anche a un altro contest che arriverà, non so ancora quando, ma arriverà, state, rimanete fino alla fine del video, guardate fino alla fine del video, perché è importante. Allora, vi ricordo per chi vedesse questo video la prima volta, che questo contest è stato organizzato da me, MarcosTutero89, e ho messo in palio 3 copie di Company Virus, il primo premio prenderà, il primo estratto prenderà una copia di Company Virus Tales of Valor, il secondo estratto una copia di Company Virus Opposing Fronts, il terzo estratto una copia di Company Virus. Io vi fornirò questi 3 codici su Steam. Fatto questo, vi comparirà Company Virus New Steam Version, dovete semplicemente cliccare di installarlo. Iniziamo subito. 1.34, generate 29, quindi il 29esimo commento ha vinto Company Virus Tales of Valor. Andiamo giù a tutto a scoprire chi è. Questo è il 34, 33, 32, 31, 30, 29, quindi Burning Killers Clan. Si è aggiudicato il primo premio, Company Virus Tales of Valor, aggiudicato, congratulazioni. Andiamo a vedere adesso chi prenderà Opposing Fronts. Ovviamente ragazzi, per una questione di, non di giustizia però, ho deciso che una stessa persona non potrà vincere, nuova regola appena inventata, una stessa persona non potrà vincere più di una cosa perché vorrei che tre ragazzi potessero giocare a Company Virus. Generato numero 9. Il primo è Burning Killers Clan, che contatterò. Apriamo qui il pannellino. Vi manderò il mio contatto Steam per aggiungermi. Numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ohenheim, 93, e anche tu hai vinto, siamo sicuri di non sbagliare perché mi è capitato di sbagliare nell'altro contest. 3, 6, 9, si esattamente. Ohenheimer, 93, ha vinto Company Virus Opposing Fronts. Andiamo a vedere chi prenderà invece Company Virus base. Numero 25, numero 25. Partiamo di uno dal basso. Questo era il 29. 28, 27, 26, 25. Sedraxis 971, che abbiamo detto non è spam, perché è stato segnalato come spam. Sedraxis 971 hai vinto una copia di Company Virus da scaricare su Steam. Ragazzi, congratulazioni ai vincitori, mi dispiace per coloro che non hanno avuto il premio, ma... ma... C'è una novità, ovvero in arrivo, e lo dico a voi e vi consiglio di dirlo a tutti i vostri amici, c'è in arrivo un nuovo contest con un giveaway che sarà di Company Virus 2. Ebbene, sì, ci saranno una o più, non so ancora di preciso, probabilmente ci saranno una o più copie di Company Virus 2 che mi verranno date da SEGA per questo giveaway. E quindi potrete avere Company Virus 2 nuovo, nuovissimo, valore 50€ da poter giocare su Steam. Per tutti coloro che fossero interessati, ve lo dico già da subito, dovrete essere iscritti al mio canale, dovrete mettere mi piace anche al video che farò, e commentare, un commento a persona. Comunque, vi terrò informati, non appena avrò, non appena finito le 3, non appena uscirà il gioco di Company Virus, e questo dovrete avere dei dettagli più precisi a riguardo. Quindi si parla ancora di almeno, no, un po' più di 2 settimane. Diciamo, tra 3 settimane vi saprò dire di preciso quando partirà questo giveaway. Oltre questo, sempre velocemente, volevo dirvi dei miglioramenti su Code2.org, che è il sito di cui sto gestendo e di cui faccio parte. Volevo dirvi questo, ovvero che, come potete vedere, è molto cambiato rispetto a prima. Abbiamo aggiunto numerose feature, come tutte queste novità sulla colonna destra del sito, Repay Light, con uno dei replay più belli scelti da noi, e lo mettiamo qui, in modo che lo possano vedere più persone. Infatti vedete quanti download e quanti honor, che sarebbero voti di apprezzamento. Qui potete vedere le varie guide, che però ovviamente non sono ancora uscite, non essendo uscito il gioco. C'è solo qualcosa nel Shelenius. E nel forum. Ma più di tutti è trending la novità. Vedetelo come una specie di Reddit, ovvero potete creare un trending, mettendo un'immagine, uno scorcio di video, in cui volete mostrare qualcosa, oppure un semplice tweet, voi mostrate qualcosa, noi ve lo approviamo, e potete essere votati, voto su o voto giù. Quelli più votati ovviamente saranno sopra alla nostra classifica, e quindi avranno modo di essere visti da più persone. Devo dire ragazzi che comunque un'altra novità importante è che Company Virus 2, grazie ai risultati che sta già avendo, senza ancora essere uscito, con già più di 12.000 persone che ci giocano, giocano all'open beta. Ha visto già un annuncio da parte di Twitch TV, molti di voi conosceranno Twitch TV come un luogo dove ci sono i più grandi streamer, i più importanti streamer del mondo, di giochi come League of Legends, StarCraft. E c'è anche Company Virus 2. Twitch TV ha deciso di supportare direttamente Company Virus 2. In che modo? All'interno del gioco ci saranno tra le varie opzioni la possibilità di streammare, senza usare nessun programma tipo Open Broadcast, Rix Split o altro. Farete streaming direttamente da dentro al gioco, mettendo qualità, se volete un tempo di delay tra il vostro streaming e tra quello che voi state facendo e quando viene trasmessa effettivamente l'immagine e tutto. E quindi comunque è una cosa molto positiva, perché per chi non c'era all'inizio di Company Virus, uno dei motivi per cui il gioco non ha avuto un successo così alto è che allora, nel 2006, YouTube, i social network tipo Facebook, Twitter, erano veramente un'altra cosa, un altro livello rispetto a quello che sono ora, non erano così importanti come adesso. Adesso i social network possono farci, ad esempio, guadagnare uno streaming del Sunday Night Fights da 700 persone a 2500 persone, quindi possono triquadruplicare le nostre visualizzazioni dal vivo. E qui ragazzi, su K2.org, potete vedere gente che sta giocando in diretta, in streaming a Company Virus 2. Company Virus 2, di cui è appena uscita oggi, un nuovo patch di 400 MB che farà la felicità di tutti i giocatori single player, perché abbiamo tanti single player e modalità schermaglia, perché abbiamo tantissimi miglioramenti sulla modalità schermaglia, l'intelligenza artificiale è stata potenziata molto rispetto al passato. Ad esempio, vediamo qua, big patch, giun 10, 10 giugno. Queste sono tutte le modifiche all'intelligenza artificiale di Company Virus. Poi ci sono bug fix, sempre un sacco di bug fix, e balance e gameplay. Le cose più importanti, senza starvele a citare tutte, sono che le shock troops di Russia hanno una nuova abilità, di cui non ho ancora testato, e che l'upkeep è cambiato, ovvero adesso ogni 1 di popolazione vi diminuirà il vostro income, il vostro guadagno di mano d'opera di 1,5. Mentre invece prima funzionava in modo un po' più particolare, ovvero i primi 25 slot di popolazione non pagavi nessun upkeep, quindi non diminuiva la tua mano d'opera, dal 25 al 75 diminuiva di 4 di mano d'opera per ognuno di popolazione, e dal 75 al 100 era di nuovo gratis, non pagavi nulla. Questo portava ad avere un upkeep che scedeva fino al 99, ma in realtà è 100, fino al 100, da 300, mentre invece ora arriverà fino a 150, se non sbaglio, 1,5, sì, 150. Questo renderà l'early game un po' più lento, perché già dai primi slot di popolazione guadagneremo di meno, ma di contro un late game più forte, perché guadagnerà di più nel corso del late game. Ci sarà da vedere, questo era un cambiamento che era stato richiesto, ci sarà da vedere se effettivamente funzionerà, o se si dovrà cambiare ancora qualcosa. Ragazzi, con questo è tutto, ancora complimenti ai vincitori, ci vediamo col prossimo video del gameplay, perché il prossimo video che farò sarà sicuramente il gameplay di Company Virus 2. Comunque, arriverà sicuramente in settimana. Questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video.